ciao a tutti sono Ferdinando e niente ho scoperto questo corso tramite una mail di una mail girata quindi non sono andato troppo in ricerca però mi sono incuriosito e da lì ho inviato la richiesta e ho partecipato ecco sono arrivato ad oggi che sostanzialmente pensavo che la cosa della cura del verde fosse molto forse la mia ignoranza molto più semplice in realtà è ben strutturata come cosa sia a livello di come funziona o meno una pianta un terreno un suolo comunque come si coltiva qualsiasi cosa che abbia a che fare col verde ma in realtà per tornare a noi al di là della conoscenza che è stata sicuramente importante il fatto che non conoscevo tante funzioni proprio di questa cosa di questo ambito il fatto che mi potrebbe aprire sicuramente nuove strade ecco io ho fatto pochi corsi nella vita quindi però ho riscontrato sempre che comunque una cosa fondamentale è la conoscenza ti apre molte strade ecco non solo lavorativamente ma inizia un po di conoscenza generale di come funzionano gli ambienti gli ambienti in cui sicuramente una persona che come un mento dopo aver fatto vari corsi inizia a intraprendere una decisione di affrontare quel tipo di ambiente e modificarlo come fa l'uomo per poter o renderlo più bello quindi a livello di giardini ornamentali non fuori a livello di coltivazione e poi altro richiede una certa praticità e di attenzione per questo procedura per questo perché c'è un progetto finalizzato a mantenere a portare lo scopo della pianta a crescere e a vivere in maniera più ordinabile senza arregare bisogno